Il clima era molto buono sia con il Presidente del Consiglio sia con il Presidente della Repubblica con i quali ci si è soffermati soprattutto sui temi di politica internazionale. Però mi è parso una grande volontà di ascolto e di tenere in considerazione anche i punti di vista della Chiesa che, ripeto, quello che ho capito non divergono molto, non ci sono molte divergenze o contrasti ma ci sono piuttosto convergenze su questi temi che vi citavo.